Io ho l'impressione, ma non sono l'unico, che l'uomo inizierà a prendere delle iniziative serie quando sarà forse un po' troppo tardi, ovvero quando avrà già pagato un prezzo altissimo sul territorio e sulla propria pelle rispetto a questi accadimenti, perché ancora non c'è questa percezione di pericolo vera sul cambiamento climatico, su queste precipitazioni, sull'innevamento fuori stagione, sulla desertificazione che avanza, sulla riduzione delle specie faunistiche e animali, quindi ci sarà un momento in cui l'uomo purtroppo, come possiamo dire in questa immagine, di fronte a scenari come questi dirà, porca miseria, forse è il momento di fare qualche cosa, ma potrebbe, ripeto, essere già troppo tardi. Allora, che cosa sta succedendo? Quella linea che vedete sulla mia sinistra è quella che si chiama corrente a getto. Questa corrente a getto fino a 10, 15, 20 anni fa si muoveva in quella direzione, ovvero da ovest verso est, a una certa velocità, era utilizzata anche per accelerare le ruote aeree ed era abbastanza stabile, cioè era proprio, come dire, definita. con il riscaldamento del mare artico, che cosa sta succedendo? Che questa onda a getto ha rallentato la sua velocità e rallentando la velocità ha fatto un po' come un fiume, cioè si è allargato, si è dilatato e quindi possiamo vedere nell'immagine che ci sono delle anse che si sono create e delle cuspidi. Allora, è chiaro che possiamo vedere che ad esempio si creano degli spazi dalla parte artica verso il nord Europa, ad esempio, o viceversa dalla parte tropicale verso l'artico. In quelle zone lì si insinuano questi fenomeni cosiddetti straordinari e eccezionali che, come dicevi, potrebbero diventare invece la normalità. Allora, oltre a questo, questa corrente ha rallentato, come dicevamo, e quindi succede che ad esempio a Genova per una settimana ha piovuto ininterrottamente proprio perché ci siamo trovati in quella situazione in cui quell'ansa si è posizionata nel bacino del Mediterraneo, sciaguratamente proprio sopra di noi, e lì ha scaricato una quantità infinita di acqua circa 400 mm, ma sembrerebbe che tutta l'acqua di novembre è l'equivalente di un anno di precipitazione.